No vabbè, l'ultimo video dell'anno lo devo registrare due volte perché mi si era impallato il computer Vabbè, vabbè, allora ragazzi, oggi parliamo face to face, mettetelo velocizzato se volete Mettetevi comodo se credete in questo progetto perché oggi vi parlerò di Carmi Special ma vi parlerò anche di Carmelo Di quello che è stato il mio 2021, il nostro 2021 e di quello che sarà il nostro 2022 Ok, quindi vi consiglio di guardarlo tutto se volete conoscere anche i contenuti che vedrete nel prossimo anno E a tal proposito, con quell'occasione per augurarvi veramente buone feste, spero siate in salute ragazzi Sia mantenete le distanze, ok, vaccinati, non vaccinati, a me non interessa L'importante è che stiate veramente attenti al momento ancora in questo periodo molto difficile E a tal proposito, com'è stato il mio 2021? Ok, ho avuto la fortuna di non avere problemi di salute Proprio perché anche mi sono concentrato molto sul mio lavoro Ecco, forse l'unico problema di salute è stato lo stress Ok, mi sono stressato molto, quello sì Però ho deciso di puntare, vista la situazione generale mondiale Di lavorare sodo, ok, di concentrarmi molto nel mio lavoro e di realizzare un progetto molto più solido Ok, che potesse veramente sostenermi, potesse diventare effettivamente un lavoro a tutti gli effetti Non solo nel mio presente ma anche nel mio futuro Quindi ho rinunciato a tanto, anche, diciamo, a passare molto tempo magari con famiglia, amici Ecco, un saluto a tutti i miei amici a proposito che non vedo da molto Però, figuratevi che è un siciliano, ok, io sono siciliano, penso si sono noterà dall'accento Però, che è stato pochissimo al mare, è una cosa molto, molto brutta, ragazzi Immaginatelo, no? Quindi, però, mi sono tolto tantissime soddisfazioni Il canale è cresciuto molto Ho portato nuovi progetti che sono stati molto sostenuti Non solo in termini di visualizzazioni, iscritti, like, commenti, condivisioni Ma anche economicamente Perché molti di voi hanno creduto poi nel progetto e l'hanno voluto sostenere Anche a livello economico Io non finirò mai di ringraziarvi Perché questa baracca, se io effettivamente posso concentrarmi a tempo pieno sul mio canale Che è su questo progetto, posso farlo grazie appunto al vostro sostegno Su tipi, soprattutto, ma anche tramite le sub e gli abbonamenti YouTube Veramente, grazie mille Detto ciò, voglio anche ringraziare però tutti coloro che mi hanno dato una mano alle spalle Ovvero, Smilo e Mattia, come collaboratori per i file Excel Soprattutto veramente hanno avuto una pazienza enorme Perché io, lo sapete, sono un tipo pignolo nella realizzazione dei miei strumenti Ma anche gli sponsor Perché magari per voi può essere scomodo vedere una citazione ad uno sponsor durante un video Può, secondo voi, abbassare la qualità del video Però quel video esiste anche grazie a quegli sponsor Che mi permettono di pagare bollette Insomma, di tenere anche in vita questo progetto Chiaro? Ma penso, saprete ormai come funziona anche il mondo del web Detto ciò, parliamo però di quali sono le mie ambizioni per il 2022 Ci saranno altri strumenti, altri file Excel? Sì, uno già subito A gennaio rilascerò il file Excel per l'asta di riparazione È un file molto semplice Non abbiamo puntato in alto Abbiamo guardato solo le esigenze che ci chiedevate per l'asta di riparazione Abbiamo utilizzato il file che avevo già realizzato per l'anno scorso E l'abbiamo migliorato secondo le vostre esigenze Semplice, semplice Nulla di architettonico Perché deve essere una cosa fresca L'asta di riparazione dura poco E dobbiamo essere lucidi Lo vedrete a gennaio in un tutorial Poi, oltre a questo, ci saranno anche altri progetti Altri magari file Sto cercando di realizzare tutti i miei file in una sezione web In una piattaforma web In modo tale che potrete utilizzarli da cellulare Da tablet, da computer Ovunque Non per forza su Excel Su un PC con Excel Questa è una cosa importante C'è tanto lavoro alle spalle Spero appunto lo supportiate a dovere E poi ragazzi c'è un progetto molto, molto importante E qui voglio giocare con voi Sparatela Sparatela grosso Divertiamoci nei commenti Vediamo quale sarà questo progetto Vi dico che è un qualcosa di grosso Ok, però non vi posso ancora spoilerare di che cosa si tratta Vedremo Vedremo Ok, ci lavorerò per molto tempo però E vi assicuro che è una cosa, una bomba Ok Detto ciò Parliamo anche dei contenuti Di ciò che vedremo Ok Ok, oltre alla guida Classica Estiva Per appunto la prossima asta Ci saranno dei contenuti Anche Molto più leggeri Ma che comunque coinvolgeranno molto la community Infatti voglio Farvi scoprire un po' di più Il mondo del fanta youtuber Oltre che del fanta allenatore Ok Quindi cosa voglio fare Avete presente il format che vi avevo già annunciato Vita da fanta allenatore Ok È già uscito un episodio dove Prendevo un po' in giro La situazione degli admin Io stesso sono un admin di più leghe Andate a recuperare in casa quel video Bene Andrò a fare invece dei vlog settimanali Io seguo un canale che si chiama Cane Secco Di Matteo Bruno E della Slim Dogs Ok È un canale che mi piace molto Ve lo consiglio Se qualcuno di voi magari non lo seguono ancora Ma Ha deciso di interrompere i vlog settimanali Beh Io voglio invece portare adesso questo format Prendere delle clip Registrare delle clip Dalla domenica al sabato Ok E farvi vedere come magari io vivo il fanta calcio Cosa mi capita ecco durante la settimana Che riguarda sia il fanta calcio Ma anche il canale Commenti Situazioni un po' particolari Riflessioni che vado a fare Alle spalle Appunto magari voi vedete solo la classica clip Registrate e tutto Però magari non conoscete poi come lo youtuber Ragione poi alle spalle Come prepara il video Come reagisce poi alle vostre reazioni al video Insomma ci sarà tutto questo In questo vlog settimanale Che uscirà poi ogni domenica Questa è l'idea Spero di riuscirci Ditemi la vostra qua sotto nei commenti Poi ci sarà invece una sorta di Q&A Che voglio portare almeno una volta al mese Se ci riesco Dove andrò a prendere la maggior parte delle domande Ma che non saranno solo mie personali Ma saranno comunque anche Fanta calcistiche Ok Quindi argomenti sui quali io posso comunque Portare Argomentazioni Quindi Un contenuto molto valido E che andrò a prendere la maggior parte dei commenti Come detto dal gruppo Telegram Degli abbonati Dei tippers Dei sub Ok E alcuni invece li prenderò Tra Instagram Quindi metterò delle storie Seguidemi su Instagram Chiaramente E prenderò Metterò delle storie Dove andrò con un box A prendere qualche tema Che suggerite voi E alcuni invece qui nella sezione commenti Quindi se avete delle idee Voi commentate Magari io non riuscirò a rispondervi Sempre qui sotto nella sezione commenti Perché veramente lo capite Sono stressatissimo Sono pieno pieno di tempo di lavoro Ma riuscirò magari a inserirvi In un contenuto video E rispondervi ancora in maniera più elegante E argomentata Va bene? Poi ci saranno altri format Che verranno fuori nel corso Ecco della stagione Magari alcune idee Che ancora Non sono sicuro di realizzare Ad esempio una Ho in mente eventualmente Di riportare Delle aste fantacalcio Con voi iscritti Qualche anno fa Ormai 3-4 anni fa Non mi ricordo più quando è stato Forse sono stato il primo A portarvi Un fantacalcio fatto proprio con gli iscritti Con gli abanati Erano due leghe Quindi ho preso 18 persone 9 da un lato 9 da un lato Ho fatto la lega in entrambe In una sono arrivato primo Nell'altra secondo E quindi Diciamo facendo il fantacalcio Effettivamente con voi Ci siamo divertiti molto Però Non vi posso questo prometterlo Perché Lo sapete Io faccio tanti fantacalcio Ogni anno Quindi se effettivamente Arriverò ad averne poche leghe Diciamo quest'estate Ci farò un pensierino Se effettivamente realizzarne qualcuna Con voi Ok Non vi prometto nulla Perché lo avete visto Come sono combinato ogni anno Con 200.000 Fanta calcio Vediamo ragazzi Va bene Detto ciò ragazzi Che dirvi Quindi se non Buon 2022 Mi raccomando State appunto Attenti A questa situazione Cerchiamo di tenere duro Ok E mi raccomando Siate anche più sereni Senza odio Perché io sto vedendo tantissimo Tantissimo Odio sui social Ok Ma anche nella realtà Siamo sereni Ok Cerchiamo di uscirne Tutti insieme E poi Come saprete Come penso appunto Ormai saprete Qui nel canale youtube Troverete sempre Un momento di svago Di condivisione Ok Sempre con educazione Però Ok Mi raccomando Un abbraccio Buone feste a tutti E buon 2022 Ciao Da Carmi Special E da Carmelo Ciao